Certo, l'esito dei colloqui e degli incontri che abbiamo avuto ieri e questa mattina è ben promettente. Tutto lascia sperare che i progetti marcino, abbiamo già oltre 20 aziende che sono già nella fase conclusiva e nei prossimi giorni se verranno risolti alcuni problemi legati alle garanzie e ai finanziamenti io sono convinto che questo progetto arriverà alla fase conclusiva e consentirà di operare, di partire, di marchare in maniera rapida e concreta al più presto. Kouanov, hai molto interesse dei italiani per incorporarsi a la vita produttiva argentina? No, io non diria che hai una desesperazione realmente, però giustamente la aczione desarrollata per CONFAPI e il presidente Anguileri venendo qui, sta ratificando questo, hanno difondito molto. Grazie a tutti.